La mostra sui dinosauri finisce in procura l'esposto depositato in tribunale a Cosenza dal senatore pentastellato Nicola Morra. Sotto accusa la spesa dell'allestimento costato ai cosentini, rivela il parlamentare del Movimento 5 Stelle, 18 mila euro al mese per un totale di 55 mila euro per i mesi di luglio, agosto e settembre. Morra contesta i soldi spesi definendoli uno schiaffo alla povertà, denunciando inoltre il metodo dell'affidamento diretto da parte di Palazzo dei Bruzzi, anche quando si supera, come in questo caso, la soglia prevista dei 40 mila euro. Il senatore parla di finanza creativa del comune di Cosenza, di furbate amministrative del sindaco, chiedendo alla giustizia di fare luce su come vengono spesi i soldi dei contribuenti. Inmediata la replica del comune, che chiarisce come la mostra sui dinosauri rientri nel progetto Festival delle Invasioni annualità 2018, cofinanziato dalla Regione Calabria. In particolare si chiarisce che il costo complessivo del progetto è stato di 37 mila euro, di cui il 60% finanziato dalla regione i restanti 18 mila euro a valere sul bilancio del municipio. Visto il successo della mostra, l'amministrazione ha deciso di prolungarla con un costo aggiuntivo di 10 mila euro. Dunque, la spesa complessiva fermocchiuto a carico del bilancio comunale è di circa 28 mila euro. Per un progetto che ha registrato migliaia e migliaia di presenze, gli uffici restano disponibili, si sottolinea a fornire la documentazione necessaria. Il senatore Morra, conclude il primo cittadino, rimedia una inutile polemica mediatica, nonché la solita figuraccia personele.